ciao fiorellini ciao fiorelline oggi tengo i capelli legati perché fa troppo caldo mi sono fatta la gotina ora cascono giù perché si corti vabbè oggi mi è arrivato Shea e dopo la sigla vi faccio vedere cosa mi sono comprata via la sigla ecco sono ritornata dopo la sigla allora la prima cosa vi faccio vedere queste due scatoline cosa c'è allora l'apriamo l'apriamo cioè questa cosa qua poi c'è la bustina e ci sono degli occhiali verdi uno le do a rachelli e recaro ci sono due quell'altro con cui li faccio vedere siamo dentro che si rompono bene questi costavano 5 euro però quei punti che io mi faccio tutti i giorni che io tutti i giorni apro l'app e mi raccolgo i punti che mi dà Shea l'ho spaccato 4 euro in un po' e stava dentro questa scatola con tutto questo qua uno quest'altro sono gli occhiali per questi però sono un altro colore ciò uno me lo metto mi riprendo io e l'altro li do a rachelli questo è un altro colore però sempre quali anzi mi faccio vedere se non è un altro colore per questo vedete da vicino che ci sono i brillantini quell'altro aveva i lenti verdi ma poi ci sono tanti belli occhiali diversi vedete questi sono molto particolari vedete qui sono fatte così e sopra l'ho provati questo colore è un altro colore adesso devo scegliere quale voglio se è verde o questi qua ok questi sono gli occhiali sono molto particolari vedete qui le 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 sono fatte così e sopra l'ho provati questo fa un po' più scuro con l'altro invece sono un po' più chiaro però pensavo che c'era la custodia per gli occhiali invece non c'è dentro la postina così perché lì facevano vedere che c'era la custodia invece senza custodia ma vabbè mettiamo dentro qua se ci riesco e copri caldo a mettere dentro queste postine qua non le metto qua dentro dopo vediamo che compriamo come si ho comprato prendiamo questa scatolina qui e vi dico perché mi sono comprata una cosa che non sapevo domenica mi sono comprata questa questa scatolina che si fa o così o la apri tutta carina questa scatolina più carina poi qui mi sono comprata quella scatolina le faccio dire per che cosa aspettate che la trovo mi sono comprata tante mollettine che ora tiro giù la fotocamera così potete vedere meglio tutte queste tutte queste cose qua che sono 3 pacchetti le ho pagate a 2 euro questi qui e 1 3 4 e 5 ve li apro vi faccio vedere come allora su questo pacchetto ci sono queste mollettine questi fiocchetti qua neri normali elastico l'elastico così normale e vi metto dentro a questo cosa qua vi svodo dopo vi svodo tutti senza carta ora vi metto con la carta però vi svodo con la carta senza carta poi questo no poi questi qua meglio sono quelli che si usano per fare i fiocchetti che si usano per fare i fiocchetti e traccine piccole e aspettate un po' aspettate un po' queste cose qua e legami i capelli ogni tutto colorato ma ogni coso ogni fiocchetto c'ha il papigliano sopra guardate che carini quando vi mettete i fiocchetti il fiocchetto vabbè tirò su forse non si mette più a fuoco quando ti metti i fiocchi ti mettono così e sono tantissimi tantissimi fiocchi qui guardate che carino ora ve lo metto sul dito per farvelo vedere guardate ogni fiocchetto c'ha questo pallina qui sopra i fiocchi vi da vendite poi arriviamo giù questi sono fiocchi normali tutti colorati sono 650 ma cos'è il genere sono tutti colorati ma sono fiocchi normali per i gatti capelli per i gatti capelli per i gatti capelli sbillentano guardate quanti quanti ci stanno sono 10 mi sa però li devo mettere senza busta perché sennò non mi c'entrano quelle buste e questo è l'ultimo pacchettino e vi faccio vedere guardate sono carini guardate sono carini e sta il fiocco giallo con il fiocchetto verde poi c'è poi c'è stato il fiocco celeste con il fiocco rosa due fiocchi rosa due celeste e rosa poi c'è poi c'è fiocchi rossi e il fiocchetto rosso su c'è guarda trovate certe cose bellissime poi c'è strano oddio non si è cascata tutti gli occhi verde dietro e rosa davanti e questi l'ultimo rosa dietro e giallo davanti e stavolta dentro questa bustina qua questa bustina qua dopo butto via bustine e metto dentro tutto insieme tranne questa qua forse bisogna rachete che io troppo ora mi si strappano le vele queste qui ci si fanno i fiocchietti comunque sono due tre buste quattro buste quattro bustine ah no cinque buste poi ho comprato due due magliette due carottierine che dopo forse del nostro sei due carottierine una rossa una rossa lì si vede rossa però è bordeaux e un'altra nera vi faccio vedere poi le indosso così vedete le indossate le indossate e questi i pantaloni per questo io avevo tanto a fretta perché mi ero comprato i vestiti mi ero comprata questi pantaloni con quella maglietta e poi vi farò vedere un'altra maglietta e poi la lì i pantaloni corti dietro sono così i jeans e ora mi vado a mettere i pantaloni così qui vi faccio vedere le due magliette una volta quella bordeaux e quella nera e poi vi faccio vedere pure la maglietta che mi sono comprata un po tempo fa che non vi ho fatto vedere indossata ve l'ho fatta solo vedere così perché me l'ho comprata solo la maglietta e perciò non l'ho fatto vedere indossata adesso mi vado a indossare queste cose e poi ci rivediamo dopo ecco questa è la prima maglietta che io mi ero comprata la volta e ve la faccio vedere ora questi sono i pantaloni che ho comprato mi sono arrivati oggi i leggings e questa è la maglietta ora vi faccio vedere quelle altre due magliette ecco questa è la prima maglietta quella nera che vi ho fatto vedere prima questa nera e ora mi devo mettere questa rossa buste questa rossa vi faccio vedere come mi sta ok questa è la maglietta rossa lo sto registrando con il telefono che mi si aspetto con la fotocamera ecco e noi ci vediamo dopo a tutti i saluti ciao sono ritornata e spero che vi è piaciuto tutto quello che ho comprato con la maglietta che avevo comprato un po' il tempo fa che mi avevo fatto vedere ma io l'avevo messa una volta e va bene adesso mi comprerò agosto qualche cosa e dopo vi la farò rivedere per ora è fine questo video grazie ringrazio che l'hanno visto dentro la fine e ciao al prossimo video da capaccio grazie a tutti grazie a tutti